Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dei miei fidanzati libreschi, anche se uno di quelli della lista è una femmina, non importa. Infatti parleremo di tutti quei personaggi che io amo terribilmente, tanto che se fossero reali sarebbero i miei fidanzati. E vi direi di notare un pattern, cioè il fatto che tutti questi sono i miei personaggi preferiti nel libro o nella serie in questione, e che un pochino sono tutti uguali, cioè io vado sempre verso lo stesso tipo di personaggio, il che credo sia normale, però vedrete molte somigliazze. La lista ovviamente è molto randomica, cioè come mi venivano in mente li ho scritti, ma direi di iniziare con questo video. Il primo che mi è venuto in mente è stato ovviamente una delle mie più nuove scoperte, che è l'Arten Krebsley dalla serie di Cirque du Freak o Aiuto Vampiro di Darren Shan. Ero Lily anche per menzionare Darren Shan, solo che poi mi ricordo che il suo corpo è quello di un ragazzino, quindi mi sento un po' pedo e quindi non lo voglio nominare, ma nella mia mente anche lui è presente. In ogni caso l'Arten è un vampiro, è molto famoso, ha i capelli rossi, cosa molto importante per me, ma soprattutto è un mentore. Sì, sono un po' attratta da quel tipo di personaggio, Help. È una figura paterna quasi per il nostro protagonista Darren, è al tempo stesso molto grumpy, diciamo che è un po' lunatico ecco, cioè a volte c'ha la bella giornata ed è tutto felice e contento, a volte è un po' scazzato, anzi la maggior parte del tempo è scazzato. Ha avuto una vita difficile e infatti non vedo l'ora di leggere la quadrologia che c'è su di lui, che Darren Shan ha scritto, prima o poi giuro che la comprerò, perché lui appunto è stato un personaggio che per me ha significato tanto in questa serie e proprio la figura che lui ha avuto e il ruolo che ha avuto nella vita di Darren e tutto ciò che ha fatto, e non vi posso dire cosa, è stata veramente un'avventura eroica e lui come personaggio è eroico. E poi si mi dà molto Daddy Vibes, quindi io che ho i Daddy Issues ho bisogno di un personaggio così o di un fidanzato così. Penso che questa sia la verità. Passiamo avanti con qualcuno di più giovane perché infatti l'Arten in teoria è molto molto vecchio. Quindi torniamo alla giovinezza con Ben Parrish da La Quinta Onda. Qui lo ammetto, sono anche molto intrigata da come Ben Parrish è nel film della Quinta Onda, quindi una parte è la mia attrazione verso l'attore, decisamente. Dall'altra parte abbiamo l'attrazione verso un personaggio che è eroico. Penso di avere questo problema, mi piacciono molto i personaggi eroici. Ben Parrish inoltre ha questa crescita nel corso dei libri che è qualcosa di veramente fenomenale. Infatti noi lo conosciamo come il tipico ragazzo popolare della scuola, però nel corso dei libri scopriamo anche il suo carattere più tenero. Non è assolutamente il bad boy con il passato travagliato perché sapete che io lo odio. È più che altro un ragazzo molto semplice che sì, dietro ha la storia un pochino tormentata, però al tempo stesso non è diventato uno stronzo, è solamente riuscito a incanalare il suo dolore per diventare una persona migliore. Un po' come vedremo altri personaggi in questa serie perché è una cosa che a me piace moltissimo. Inoltre Ben Parrish fa delle cose che veramente non posso che non apprezzarle, soprattutto nel primo libro. E poi vediamo parla della sua relazione con i bambini. Cioè lui è bravissimo con i bambini, con il fratello di Cassie, con gli altri bambini di cui non mi ricordo il nome che lui incontra nel secondo libro, nel terzo libro. Una cosa più attraente di questa non so se c'è. Andiamo avanti con un altro personaggio che ha preso il suo dolore e l'ha incanalato per essere una persona migliore. Continuiamo su questa scia, Newt di The Maze Runner. Anche qui vi dico che in parte c'è un po' l'attrazione per l'attore. Ho avuto un paio di anni in cui ero molto ossessionata da Thomas Brody Sangster. Ma a parte questo, Newt è decisamente quel tipo di persona che non è il capo. E qui grande applauso perché a me i capi non mi piacciono. È un po' il sidekick della situazione, il miglior amico del protagonista. Anche questo qua è una cosa che sono molto attratta dai migliori amici del protagonista. Ma appunto questa cosa di lui che incanala il suo dolore per diventare una persona migliore. Voi non sapete quanto mi attraccio. Soprattutto di lui mi piace molto la crescita che fa. Dal primo libro dove non lo conosciamo praticamente perché è tutto dal punto di vista di Thomas. E dove l'importante è uscire dal labirinto. Al secondo e terzo libro. In particolare terzo libro dove mi ha distrutto. Non ho più avuto una vita dopo aver letto il terzo libro di The Maze Runner. Perché nel terzo libro lui mi ha completamente distrutto il mio pequeno corazón. Non ho più avuto una vita perché tutto l'amore che provavo per lui stavo per fare spoiler senza volerlo. Il mio amore per lui è rimasto con lui ecco. Non so se ha senso. Comunque non piangiamo su una ferita aperta perché farebbe molto male. E passiamo con il prossimo personaggio. Dove abbiamo Anjo Ras da I Miserabili. Questo è un po' più un altro tipo di personaggio maschile e o femminile che mi piace moltissimo. Il rivoluzionario. Cioè quel tipo di persona che siccome crede in determinate cose va a fare la rivoluzione. Per me è super attraente. Quindi se anche voi siete un rivoluzionario o volete essere un rivoluzionario. Ovviamente con le idee simili alle mie però per favore. Perché ok accettare le idee degli altri. Però io se voglio lottare lotto per quello in cui credo. Se voi siete come Anjo Ras volentieri venitemi a cercare e facciamoci quattro chiacchiere. Però parlando seriamente lui è un personaggio che veramente mi ha ispirato a credere in quello che io credo. E a lottare per quello in cui io credo. Ogni volta che vado a manifestare per qualcosa in cui io credo. Nella mia mente c'è questa piccola cosa che mi dice Anjo Ras sarebbe super proud di te. Vi giuro raga non so perché ma è così. Perché effettivamente lui mi ha davvero insegnato come lottare per quello in cui tu credi. È la cosa più giusta da fare. Non importa quanto la gente ti voglia picchiare per quello in cui credi. Non importa quanto magari a volte dubiti di quello in cui tu credi. Tutto il mondo sembra contro di te. L'importante è andare avanti e lottare per quello in cui si crede. E soprattutto The France Before Pants continua a essere il mio motto. Forse è una cosa che solamente il fandom degli Angel Terre capisce. Però non importa. France Before Pants. Direi di ritornare un attimo sulla scia del passato burrascoso incanalato nella felicità con i prossimi due personaggi. Cioè Harry Potter e Lori da piccole donne. Non dico molto su Harry Potter perché penso che chi mi segua qui nel mio canale o nella vita reale sappia quanto Harry sia il mio fictional boyfriend perché ho una crush su di lui. Enorme. Come faccio a non avere una crush per Harry? Cioè da una parte lui è il mio migliore amico. E so che è difficile da spiegare e nessuno lo capisce però. Lui è il mio migliore amico, mi è stato vicino in momenti molto duri. È sempre vicino a me nei momenti duri. Cioè quando io sto male, mi metto a leggere i libri di Harry Potter e sto bene. Ma d'altro canto è proprio perfetto. Cioè fisicamente io smatto. Caratterialmente ok, me ne rendo conto che è un pochino sassy queen, però mi piace. E soprattutto nel quinto libro che sto leggendo adesso è sempre incazzato con il mondo. Ma amici, chi non lo era a 15 anni? E poi sì, dai, lo ammetto che la questione del prescelto un po' mi attira, un po' tanto. E invece per quanto riguarda Lori, non lo so raga, io mi rivedo un pochino in Joe. Non vi faccio spoiler su quello che succede ovviamente in piccole donne, però il miglior amico di Joe è Lori. Quindi per me è ovvio che io sia attratta da Lori. È il miglior amico della protagonista e quindi io sono di default attratta da Lori. Forse non ha senso, però Lori anche lui è passato burrascoso, lui che cerca di essere quello che gli altri vorrebbero che lui fosse. L'italiano è giusto? Spero di sì. Insomma, anche lui sta cercando un po' di capire cosa vuole nella sua vita. E forse sì, Timoteci Alamea ha dato ancora di più voga alla mia crush per Lori. Senza forse, decisamente. Penultimo personaggio è ovviamente Wylan da Sadie Corvi. Vedete anche qui un pattern di persone non proprio etero che mi piacciono. Non so se è positivo. In ogni caso è intelligente, cosa che a me attrae moltissimo. Allo stesso tempo è passato burrascoso, incanalato nella felicità e in cose più positive. Lui è ancora un pochino nella fase dell'incalanamento, però sicuramente ci arriverà perché io ne sono sicura. È una persona che comunque ha una disabilità, non vi sto a dire quale, e però dice comunque ad accettarsi nonostante questa sua disabilità che lui ha. E comunque riesce ad essere felice con se stesso e accettare se stesso così com'è. Poi è un cutie pie e quindi non potevo che non amarlo. Tutte le persone che odiano Wylan possono uscire da questo canale perché non siete ben accette. Potete odiare tutti gli altri personaggi ma non Wylan perché Wylan è il mio cuore, il mio corassone, l'altra parte della mia anima. In ogni caso passiamo all'ultimo personaggio che è una ragazza, l'unica di questa lista, che mi è venuta in mente almeno, che è Villanelle da Killing Eve. Ora, ora, mi rendo conto che è una sociopatica narcisista che probabilmente a un certo punto mi ucciderebbe. Però è comunque una badass ed è super figa sia nel libro che nella serie tv. Io non posso che non amare un personaggio del genere perché è super intelligente, sa un sacco di lingue, potrebbe aiutarmi a imparare tutte le altre lingue che non so. È attraente, semplicemente è attraente in qualche strano modo, è attraente. Non capisco come o perché, ma è infinitamente attraente. Qualcuno mi aiuti. Detto ciò, per il video di oggi è tutto questo video. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento qua sotto. Fatemi sapere anche quali sono i vostri fictional boyfriend preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video e bye!